Spoltore, Bacigalupo, Vasto Marina, fischia Francesco Battistini di Lanciano, riprese e montaggio affidate a Pino Di Felice. Per dire il vero, mai visto un primo tempo così per intensità di gioco, 45 minuti di grande calcio per ambe due le formazioni in campo con ben 5 reti. Che direi di andare a vedere subito uno più bello dell'altro. Si parte già dal sesto minuto, appoggio di Selva Allegra per Spalvori, tiro respinto. Ma questo è solo il classico aperitivo. Dodicesimo, Sparvoli, servizio fortissimo in area ma non c'è nessuno. Al tredicesimo si nota il Vasto Marino con Giuseppe Letto. Cerca il pallonetto, ma a questo punto gol vaporizzato. Adesso andiamo con le highlights al minuto 16. Attenzione, c'è un calcio di punizione Sparvoli. Risposta olimpionica di giocatore. Arriva Salva Allegra e segna il primo gol. 1 a 0. Appena dopo, e precisamente al diciottesimo, Vasto Marina agguanta il pareggio con Letto. 1 a 1. Giusto il tempo di collocare il pallone nella mezzeria del campo e Sparvoli sprigiona un tiro di rara bellezza. E sì, sì, è il 2 a 1. Questo è da rivedere assolutamente. 21esimo, ancora un gol. Lo spettacolo nello spettacolo. Il 2 a 2, griffato ancora una volta da Letto. Doppietta per lui. Questo segna anche quando dorme. 36esimo, ottima risposta di giocatore alla stoccata di Sparvoli. Ne approfitta planamente e mette in rete il 3 a 2. Prima del riposo l'arbitro caccia il trainer Borrelli dalla panchina. Tutti negli spogliatoi. Siamo già in ripresa, sesto minuto. Rigore per lo spoltore. Lo batte Petito e siamo sul 4 a 2. Si replica con quest'ottima conclusione al 21esimo. Eccellente la risposta del giocatore. 23esimo, errore di Palena nella sua uscita. Altro penalty. Questa volta a favore del Vasto Marina. Dal dischetto Fironi non sbaglia. 4 a 3. Finisce la Kermessi calcistica. È proprio il caso di dirlo. I protagonisti. Alessandro Morelli vincere 4 a 3. Che effetto le fa? Lei oggi in panchina, in sostituzione dello squalificato del Gallo. Che non voglio sapere neanche il motivo. Fa piacere. Sono felicissimo. Avevamo lavorato durante la settimana per cercare di recuperare dopo le due sconfitte. Quindi sono contentissimo per noi e per i ragazzi. Faccio una domanda un po' simpatica. Direi in questa vittoria c'è qualcosa? O ha ricevuto solo ed esclusivamente telefonate dietro la recensione? No, vabbè. Noi lavoriamo sempre in settimana insieme. Alessandro, il mister del Gallo, mi coinvolge tantissimo. I cambi ovviamente li ha decisi lui. Poi in panchina ho cercato di dare il mio contributo. Spero di esserci riuscito, insomma. E mi sembra giusto. Era lui, il trainer. Alessandro Borrelli con noi su Telemax. Giovanni Borrelli, il trainer del Vasto Marina, può terminare anche di bere il suo caffè? Ratafia. Mi hanno offerto Ratafia al terzo tempo. Prima ci siamo bisticciati, però lo sport vuole anche che no. Fair play. Assolutamente. Perché quando arbitro fischia, diceva Bosco, le belligeranze terminano, insomma. Giovanni, detto tra noi, perché l'arbitro l'ha cacciato? In quel momento, oggettivamente, sono stato in Genoio, quindi lo riconosco. A volte bisogna anche ammetterlo, quindi va bene. Non va bene il risultato, parlando sempre di arbitraggio. Secondo me si è inventato un rigore, oggettivamente parlando. Non stava né in cielo né in terra, però ci sta. La vista così, pazienza. Capito? Quindi alla fine ci sta. E nella pazienza. Vabbè, comunque, la sua squadra non mi è dispiaciuta, sinceramente. specialmente nei primi 45 minuti di gioco, che ha risposto in modo adrenalinico, con forza, con tenacia, ai gol dello spoltore. 1-2, 1-2, insomma, bellissimo. Sì, no, ma infatti, dicevo anche prima ai vostri colleghi, se una bella gara di calcio c'è stata, è merito anche di tutte e due le compagini, che alla fine si sono affrontate in maniera leale, hanno provato a giocare. Naturalmente, quando si piglia gol, è innegabile che si facciano degli errori e quindi, alla fine, ecco, bisognerebbe lavorare per non farne più di errori. Però, tutto sommato, me lo stavi dicendo anche tu, insomma, contenti, contenti di aver dato, come dire, spazio ad una bella gara di calcio, una bella giornata di sport. Finisce 4-3 per lo spoltore. Giovanni, com'è? Buona? Sì, appunto, a proposito di terzi tempi, mi hanno offerto della ratafia, quindi faccio un complimenti anche allo spoltore, quindi alla fine, quando arbitro fischia, tutto si ricompone, ma come è logico che sia. Allora, mi accompagni, c'è il barretto, no? Andiamo.